Buongiorno a tutti, oggi faccio l'ultima puntata di questo vestito finale. Io ho fatto, come voi vedete, manica, qui un po' dovrebbe essere così uguale. Io ho fatto una manica e adesso io ho cominciato a fare altra. Ora, non ho questo vestito lavato, non stirato, niente, così tutto bello fresco. Vuole ripetere cosa bisogna per questa cosa? Adesso andiamo a tavola, io spiego ancora e questa già è l'ultima, perciò io posso solo augurare voi come cominciate a fare fatte e vedrete andrà molto molto bene. Importante seguire cosa ho detto io e vieni anche da voi uguale. Allora, questa manica, come io ho spiegato in altri video, dovrebbe venire sotto scele. Guardate, deve essere così, non vedete niente cucitura, niente. E così, circolare voi fate e dopo cominciate a stringere. Io stringevo. Allora, adesso io voi faccio vedere come ho fatto io. Come ho fatto io. Come voi guardate. Perché adesso ci vede leggermente, però quando lava dopo non vediamo più. Allora, adesso io faccio così vicino, come io stringevo. Fate screenshot e potete seguire. Allora, questa cosa dice. Io avevo manica 96 mali e dopo con giro 14, perché come voi vedete, come io ho spiegato, io ho messo cantatore di giro. Una io ho messo su, altra io ho messo sotto scele. Per caso, come io scordo qualche parte, spostare il giro cantatore, io posso verificare con una oppure con altra. Adesso giro 9 di manica altra. Io così ho messo queste ferie, ferie di legno, come io ho spiegato, e così io lavoro. Queste io copro. Perciò quando era qui giro 14, io ho preso due mali insieme. Quale maniera? Come voi guardate, qui sotto c'è cucitura sotto fianchi dove noi abbiamo fatto due insieme. Io ho seguito, ho trovato centro, non bisogna trovare perché voi vedete subito, centro, e da questa centro male io prendo qui, prendo due, e questa parte prendo due. Perciò con un giro io prendo due mali, dalla prima linea questa, prima e dopo, due insieme. Dal due diventa una. Allora, come voi guardate, qui giro 14, giro 14, io meno due. Vi ho spiegato prima centrale e dopo centrale. Dopo con giro 20, grigio, questo io dico quando io ho cominciato a mettere altro colore. Però quando voi fate, voi sempre potete segnare, perché quando ho cominciato a fare altro manico, voi già avete tutto e senz'altro fate identico quale avete fatto prima manica. Io faccio sempre così e consiglio a voi, cantatori, non mica costano tanto e dopo potete fare. Dopo quando io ho arrivato al giro 105, qui ho già cominciato a fare elastico, così. Allora, cosa bisogna leggere di questa modella giapponese? Allora, questa modella noi dobbiamo sapere modellare scolare, scolatura, chiedo scusa, dobbiamo scolatura, dobbiamo modellare, dopo modellare la parte di superiore, questa scolatura, questa scolatura, questa scolare, questa parte, non scolare, parte di superiore, perché noi facciamo dal sopra. Quando noi arriviamo a questa parte, parte di superiore, dopo questa numero tre, dobbiamo formare braccio, come io ho spiegato, mettiamo a parte nostre maniche, quale noi abbiamo fatto a parte, e dopo cominciamo a fare il giro. Prima di fare il giro, qui dobbiamo formare, formare, come si può dire, sottosceglie, sottosceglie. Io ricordo, mi sembra, abbiamo aggiunto 17 malie, qui, sottosceglie. Allora, solo queste quattro regole, quali noi dobbiamo sapere. Questa scolatura, parte di superiore, maniche, e qui, sottosceglie, dobbiamo aggiungere malie. Minimum 5 malie, massimo 15-20, dipende quale siano, gente ce l'hanno. E così, queste sono tutte le regole, quali noi abbiamo fatto e dobbiamo seguire. Dopo, quando noi facciamo queste uno, due, tre, quattro cose, e dopo non c'è niente da fare, non c'è da fare. Solo dopo voi fate vostre maniche, circolare, circolare, vostra lunghezza, quale per voi bisogna. Ogni volta voi potete provare, per capire. E anche da qui, dal sottoseglie e giù, lunghezza, anche qui, ragazze, voi automaticamente fate circolare, circolare, e voi fate vostra lunghezza, quale per voi bisogna. E dopo voi chiudete, chiudete con vostra maniera. Io, per esempio, ho chiuso sempre con questo motivo, con questo motivo, quale io ho fatto, come io ho fatto parte di superiore, di superiore, uguale. Guardate, guardate, guardate. Questo è uguale. Così io ho fatto bordo giù. Questa è finale. Ecco, anche voi potete fare come voi volete. Però mi raccomando, non dovete proprio stringere, come voi volete avere, identico quale ho fatto io. Ecco, cosa altro voleva dire? Seguite vostra lunghezza, quale maglia voi bisogna. Io, per esempio, questa volta ho fatto 96. 96 maglie. Voi potete dire, ah, troppo largo. Non largo. Io volevo come sta manica sta libera. Perché quando io lavo, dopo, senz'altro, va leggermente giù. Va leggermente giù. E dopo questa cachemire può anche, un po' anche stringere. Come io ho fatto, prima io ho fatto vedere, con queste, queste righe grigine, invece, le mie maniche sono diventate più corte. Più corte e anche un po' strette. Per questo io ho fatto di più. Perché qua le grigie, mi sembra, era 84 maglie. Però questa volta io ho fatto 96, 10 maglie di più. E mi sembra, non mica io ho sbagliato, io ho provato. Adesso nel manico è libero, però si può valutare solo quando io lavo, faccio bagno. Bagno. Allora, voglio ripetere ancora, ragazzi. Io ho preso 126 maglie. Per fare circolare, io ho aggiunto uno. Così, perché quando dobbiamo fare circolare, dobbiamo fare due insieme, così andiamo in giro. Dopo, questa linea riglan e questa linea riglan. Questa davanti, questa dietro. Queste maniche. Qui noi dobbiamo, un giro, dobbiamo aggiungere una maglia e questa parte una maglia. Perciò, schienale, schiena, sempre allarga da questa linea riglan. Così. Parte di maniche. Io non ho fatto preciso linea riglan qua. Io lo so, 17. Dopo, dal 17, qui io aggiungevo una maglia quale va per maniche. Così come voi guardate. Guardiamo così. Perciò, qui, noi dobbiamo allargare maniche. Ecco. Questa linea riglan io non ce l'ho, perché questa, 31. 31 era qua. Dal 31 io tutto andavo verso maniche. Identica anche qua. Prima di circolare dobbiamo fare schienale. Oppure, come voi dite, ah, sono stanca, non voglio, non capisco come fare schienale. Allora, quando voi fate parte superiore, parte di schiena, ops, quando voi arrivate parte di schiena, parte di schiena, prima a prendere maglia sotto selle, voi dovete questa parte dal sotto maniche, qui, qui e qui maniche, voi mettete a parte. Mettete a parte. Perciò qui voi dovete fare 3-4 centimetri avanti e indietro. Solo dopo voi prendete 5, 10, 15, 17 sottoscelle e collegate con davanti. Bisogna fare vedere altra parte. Chiedo scusa. Così forse è più chiaro. Allora, qui, voi, nella schienale, allungate e dopo prendete vostre 10, 15, 5, quale maglia per voi bisogna, voi sapete, e dopo voi collegate con maglia davanti. è anche uguale, identica, fate anche altra parte. È tutto. È tutto. Non c'è niente. Io preferisco fare fare schienale subito. Io così più tranquilla. Mi piace, mi piace fare subito. Però mille persone, mille parere, qui non c'è un obbligatore che deve fare e seguire cosa dico io. È tutto, ragazzi. Solo queste quattro regole. Scolare, superiore, maniche e sottoscele. Dopo queste maniche e corpo voi fate autocomente. Guardate tv, parlate con vostri vicini, con cari, non sbagliate. Qui non si può sbagliare. Ragazze, mi sembra che io ho raccontato tutto. Come voi guardate ancora il mio vestito, è così. Questa manica perché mia amica mi ha regalato già roba quale era quasi pronta, tutta nuova. Io ho disfattato, però queste parti le ho lasciate. Dopo io ho preso questa maglia, ho messo tutti e tutti al ferie, perché erano tanti. Dopo io qui stringevo e ho fatto quale bisogno a me, 126 maglie. È tutto. Questo è l'ultimo video di questa cosa che io ho fatto. Guardate come è piaciuto, potete capire e fare. mi raccomando, guardate come io stringevo, provate a seguire con le mie cifre e dopo guardate, per voi va bene oppure no. Per me va bene. Ecco, faccio ancora immagine di questa cosa. Vestita, tunica, manica, come voi valete, così potete dire. Voi potete dire cosa qui c'è gobba, non ho gobba. Quando lava, tutti i magli prendono le sue posizioni come deve essere. Qui linea adesso come voi guardate in queste immagini non come nella una riga, però quando ho provato ieri sopra di me perché questa cosa è diversa di mie spalle, perciò questa colore è uguale con questa. Io non ho seguito altre righe perché ho pensato non mica bisogno. Mi sembra così molto bene. Io auguro voi buona giornata, auguri. Io auguro voi anche pacienza, provate a copiare come va bene, sono contenta, come non va bene, chiedo scusa. Però voglio dire ragazze qui non bisogna grande matematica, qui bisogna solo una pacienza e avere vostra idea, vostra fantasia come voi volete fare. Io penso così mi sembra molto bene. Per inverno, primavera, no primavera, forse primavera qui in Italia caldissima, però inverno va proprio da Dio. Non solo stare a casa, anche per uscita mi sembra è molto bene, è caldo, è più organizzata, no più organizzata, più ordinata io tendevo. Mi piace questa scolatura, mi piace tanto perché che io ho provato va molto molto bene. Perciò voi potete giocare con vostri colori, quali voi avete, come piace a voi. tutta, è matematica, è tutta. Giocare con colore, cosa voi volete fare, come voi volete fare. io dal sciopro ho fatto più chiaro e dal sotto ho fatto più scuro. Parte di critici io cercavo chiudere con un po' di scura. Invece questa grigia io chiuso con queste righe quale hanno rubato mia pancione, pancino e così. E tutto ragazzi, io auguro voi pacienza, salute e fortuna e anche per me. attraverte. Grazie a tutti.